Un campus di qualità per migliorare così l'offerta formativa del territorio. Un progetto importante che entro il 2026 vedrà a copertino la realizzazione di un nuovo complesso su un'area di 15.000 metri quadrati vicino all'Istituto Tecnico Bachelet e al Liceo Don Tonino Bello che potrà così accogliere, si stima, almeno altri 400 studenti. Prevista la creazione di oltre 20 nuove aule, una palestra e altri servizi. A Palazzo d'Orno si è tenuta la conferenza stampa per illustrare questo significativo intervento presentato dalla provincia di Lecce che ha ottenuto il più alto tra i finanziamenti 6 milioni di euro all'interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. I nostri ragazzi avranno un polo scolastico straordinario, super innovativo, super moderno con tanti spazi, tanti laboratori, tanti luoghi per poter crescere e potersi formare in una scuola che è all'avanguardia e che è uno dei nuovi modelli nazionali e che nascerà proprio nel Salento e in particolare a copertino. Un obiettivo importante che la regione e la provincia hanno raggiunto. Il nostro obiettivo ovviamente sia col PNRR ma anche con i fondi regionali è quello di costruire, progettare e programmare strutture scolastiche all'avanguardia. Questo perché il nostro obiettivo, davvero l'obiettivo più importante, è quello della scuola a tempo pieno. L'idea che gli studenti della scuola superiore siano tutti insieme porta naturalmente ad una nuova visione, all'interazione tra ragazzi e per la città sicuramente ricchezza.